Ciao a tutti, proseguiamo adesso la nostra partita, ci troviamo all'ottavo turno di 10, ricordo il nostro obiettivo è quello di pulire le carte dove sono presenti l'obiettivo 1 e l'obiettivo 2. Al momento non sappiamo cosa potremo trovare sotto l'obiettivo 2, abbiamo ancora un potenziale contatto di tipo A, mentre sull'obiettivo 1 abbiamo scoperto, purtroppo ancora non è spottato, che all'interno di una buca è presente una squadra di fanteria giapponese di 3 step. Abbiamo un Assault Team che è avanzato e sotto fuoco nemico di queste small arms da parte della squadra di fanteria, l'obiettivo del turno sarà quindi quello di primis spottare questa unità e cercare di aprire il fuoco da questo location con le nostre armi automatiche e magari anche con un colpo di mortaio. Magari l'ottimale sarebbe portare questo mortaio da qui a qui, così poi sarà lui una volta spottato a sparare, portare questo mortaio da questa location a questa per aprire il fuoco su questa carta una volta che verrà spottato il nemico, ricordandoci sempre che comunque sia siamo sotto fuoco da parte del nemico qui presente. Sono rimasti come comandanti sulla pancia di gioco il comandante di compagnia che si trova qui, il comandante dei mortai che si trova qui, il comandante del terzo plotone che si trova sulla seconda carta delle dune, mentre sulla terza abbiamo il primo plotone. Prima di procedere con il turno, una piccola correzione che stavo vedendo lo status delle nostre unità sotto le varie pile di stack, mi sono accorto che ci sono troppe unità su questa carta, ricordo che il limite massimo di stack presenti, che possono essere presenti su una carta, sono 4 veicoli e 16 unità, le unità che sono imbarcate in un veicolo non contano ai fini di questo calcolo, però ci sono più di 16 unità, quindi per proseguire adesso non ricordo esattamente se è stato proprio l'ultimo turno in cui ho mosso troppe unità all'interno di questa location, prendo la prima e la seconda squadra del secondo plotone, quindi un totale di 6 stack, e li vado a posizionare su una carta indietro, quindi vi faccio fare un passo indietro, immaginiamo che la situazione di inizio turno sia questa. Quindi cominciamo a giocare, innanzitutto, solita prima fase, vediamo se ci sono comandi da parte dell'HQ, alleato, non ve ne sono, quindi questa carta la si va a scartare, andiamo ad attivare nella fase di comando le nostre unità, peschiamo una carta per il comandante del plotone di compagnia, 3 punti, 3 punti più 1, 4, e quindi andiamo a mettere questi punti qui da parte. Allora, sicuramente lui darà un comando al terzo e un comando alla compagnia dei mortai, quindi vado a pescare una carta per il terzo, 3, il terzo purtroppo vedo che è di linea, perché aveva avuto, diciamo era morto, era stato promosso sul campo un'unità, quindi in realtà abbiamo solamente due punti che mettiamo da parte per poi attivare il nostro comandante del terzo plotone, mentre per quanto riguarda gli artiglieri, anch'essi hanno un modificatore di meno 1, perché sono green, quindi 1, meno 1 farebbe 0, però almeno un punto in questa fase quando si pesca la carta per il segmento di attivazione lo sia sempre, si possono avere 0 punti durante il fattore di iniziativa, quindi comunque sia un punto lo andiamo a prendere. Il comandante di compagnia è qui, dà un ordine diretto di movimento, quindi vado a spendere un punto a questa unità di mortai, che vado a marcare come esposta e vado a mettere qui, e poi spenderà un punto, anche lei per andare un attimino più nel cuore della battaglia, per essere quei signi di linea di vista e con le altre unità, la metto qui, in questo caso non abbiamo comunque problemi per lo stacking, e do un ordine al primo plotone, quindi spendo un altro punto, il primo plotone ha 3 punti, anche il primo plotone purtroppo ha un malus di 1, quindi prenderà solamente 2 punti. Se ricordo bene, qui abbiamo anche quest'altro membro dello staff, vado un attimo a zoomare, anche se pinnato, diamogli comunque sia la possibilità, spendendo un punto sempre col CEO headquarters, di avere delle attivazioni, eccolo qui, intanto reshufflo il mazzo, vediamo se possiamo dare, l'obiettivo è cercare di spottare quanto prima quel nemico, per poter poi aprire il fuoco. Diamo subito l'ordine di spot, per quanto riguarda il CEO headquarters, spendere un punto tra l'ordine di spotting, un elemento del terzo plotone probabilmente, qui abbiamo il secondo, la seconda squadra, e la terza squadra, che sono comunque sia, riguardando l'ordine di battaglia, sono elementi di linea, e inesperti, per quanto riguarda i mortai, anche questi sono elementi non veterani, volevo vedere se ho un'unità veterana per beneficiare di un bonus di più 1 allo spotting, il mortaio non è veterano, però la prima squadra, ogni prima squadra di mitraglieri, se non erro controllo l'ordine di battaglia, si risultano essere veterani, quindi do un ordine, purtroppo non lo posso fare, non lo posso fare perché l'unità del comandante di compagnia si trova sulla stessa location, di un'unità su cui vorrei dare l'ordine, è permesso dare l'ordine alle unità presenti sulla stessa carta, anche senza strumenti di comunicazione, quali radio, piuttosto che linee telefoniche, dando ordini proprio con la gestualità, con i comandi classici militari, quindi devono essere fisicamente linea di vista per vedere i gesti che fa il diretto superiore, quando però un'unità si trova all'interno di una copertura, e l'unità che vuole dare dei comandi si trova all'esterno di questa copertura, non si riescono a vedere, se fossero stati tutti e due in trincea, si sarebbero visti, a questo punto però nulla ci vieta, quando è stata mossa l'unità, di metterla direttamente in trincea, perché se abbiamo una cover, possiamo entrarci dentro, quindi in realtà il movimento che veniva fatto era esattamente questo, a questo punto, sotto, all'interno della trincea, possono colloquiare questa unità, quindi il comandante di compagnia con la squadra dei mitraglieri, e gli dà l'ordine di cercare di intercettare e di spottare questo nemico, e quindi pescheremo due carte, più una carta, dal momento che l'unità risulta essere veterana, purtroppo l'unità che cerchiamo di spottare, ahimè, si trova sotto una cover, quindi beneficia di un, cioè ci fornisce purtroppo un malus di meno uno, quindi il risultato netto sono due carte, due carte, carta uno, carta due, niente, non abbiamo spottato il nostro nemico, sconsumo il punto, possiamo far ritentare questa ricerca, quindi fornire nuovamente lo stesso ordine se vogliamo, con un ordine particolare che si chiama Exhort, che permette quindi di replicare un'azione che era stata fatta in precedenza, perché di norma possiamo dare solamente una volta un dato comando all'unità, in questo caso quando si fa un Exhort, si pesca una carta sola, e purtroppo non abbiamo spottato, quindi questo termina l'attivazione del nostro comandante, venendo a noi adesso abbiamo attivato queste unità, il primo Plotone e il Sergente che sta sotto, per quanto riguarda il Plotone, quello che vogliamo fare, ripeto, è sempre cercare di spottare questa unità, quindi possiamo dare l'ordine attraverso i mitraglieri alla squadra del mortaio, di eseguire uno spot, purtroppo quindi pescheremo due meno una, una carta sola, però abbiamo spottato, quindi a questo punto il nemico risulta essere visibile, e noi andremo a sparare sulla carta, andremo a sparare sulla carta con armi small, con armi granata, qualora decidessimo di lanciare le nostre granate, e qui abbiamo la squadra dei mitraglieri, quindi il miglior fuoco che riusciamo ad utilizzare è quello di armi automatiche, e quindi queste squadre sono soggette ad armi automatiche. quello che possiamo fare è cercare di vedere se riusciamo a sparare una granata, innanzitutto, quindi ad esempio, quello che possiamo fare è dare l'ordine di lancio di granata, quindi consumiamo un punto, cercheremo di sparare una granata da qui verso il nostro nemico, anche in questo caso è necessario eseguire naturalmente un test, bisogna pescare due carte, l'esperienza abbiamo detto che della nostra squadra presente qui è una squadra di linea, ma pertanto non abbiamo dei modificatori né positivi né negativi, abbiamo comunque un simbolo di granata, pertanto siamo riusciti a sparare una granata sul nemico, in questo caso la nostra squadra di mortai, che partiva con sei colpi a nostra disposizione, ne dovremmo depennare uno, quindi a questo punto vado a mettere cinque colpi, quindi qui intanto un colpo di granata sta arrivando. Vediamo se riusciamo a spottare qui il nostro nemico, il comandante del mortaio può dare un ulteriore ordine, anzi, facciamola, vabbè, diciamo, conserviamoci i punti per il turno successivo, passiamo all'attivazione del terzo protone, il terzo protone cosa fa? da ordine di creare dalla terza squadra un Assault Team, quindi l'ultimo step è questo qui, e andiamo a prendere un Assault Team, che vado a mettere qui, e questo è un ordine. L'ordine poi successivo che dovremo andare a fare è il movimento di questo verso questo, però sfrutteremo la fase di iniziativa generale, per conservare l'ultimo punto a disposizione del terzo protone, per non sprecarlo, quindi li metto momentaneamente qui. Per quanto riguarda invece il primo protone, il comandante del primo protone qui ha una squadra, una seconda squadra, ha unità che risultano essere pinnate, mentre qui abbiamo altre squadre. Il nemico qui risulta essere stato spottato, quello che possiamo fare, vediamo se abbiamo anche qui un mortaio, mi sembra di no però, qui abbiamo un Assault Team, quindi armi automatiche massimo a nostra disposizione, potremo cercare di concentrare il fuoco su questo target, in maniera tale da avere un modificatore ulteriore verso il nemico. In questo caso abbiamo sempre due carte da pescare, soggette ai modificatori dell'esperienza della nostra unità, e cerchiamo di guadagnare, se vogliamo, un modificatore al nostro tiro, un modificatore di meno uno. Spendiamo un punto quindi con... In realtà però non possiamo farlo, perché le unità sono pinnate, quindi prima cerchiamo di recuperare le nostre unità, perché affinché possano essere utilizzate per eseguire un colpo di fuoco concentrato, è necessario che siano in good order, quindi non devono essere pinnate. Allora, il primo plotone spende un punto e dà ordine di rally, vediamo se ci riusciamo, no, ne spendo un ultimo, per dare un ordine di rally all'altra squadra, questa ci riesce, quindi quant'era la prima squadra, la seconda squadra, che non è più pinnata, la metto qui, e a questo punto sfrutteremo poi l'iniziativa generale, per cercare di concentrare il fuoco. Naturalmente, dicevo, il nostro obiettivo sarà spostare un'unità qui, e poi concentrare il fuoco qui, quindi sperando di avere almeno due punti con l'iniziativa generale, questa sarà la nostra priorità 1, avviciniamoci, questa sarà la nostra priorità 1, e questa invece sarà la priorità numero 2. Abbiamo finito a questo punto la fase delle, se li spostiamo, abbiamo finito quindi la fase dell'attivazione, per quanto riguarda i segmenti di impulso, abbiamo attivato praticamente tutto, quindi non ho nulla da attivare, e procedo alla fase di iniziativa generale, abbiamo, ops, un punto solo, e questa non è cosa buona e giusta, un punto solo, quello che faccio, come avevo dichiarato, voglio cercare di comunque sia, vedere cosa c'è là sotto, magari siamo fortunati, non c'è contatto, e riusciamo a pulire la nostra, riusciamo a pulire la nostra, la nostra carta, la nostra carta di obiettivo, allo stato attuale il livello, lo metto qui, era engaged, il livello, prima di questo scontro, il livello di contatto. Ok, vediamo adesso cosa accade, se ci sono comandi da parte dell'HQ giapponese, abbiamo comandi, perché c'era il simbolo dell'HQ, abbiamo visto nel video precedente che c'erano 10 scelte possibili, vediamo qual è l'ottava, l'ottava scelta nel booklet per la prima missione, è Banzai, tutte le squadre di fanteria giapponese, o team di assalto, quindi quella che è qui presente, adiacenti a carte occupate dagli Stati Uniti, si muovono, si espongono, nelle carte occupate dagli Stati Uniti, direttamente lungo la colonna che stanno occupando, quindi cosa significa? Che praticamente questa unità abbandona questa posizione, esce allo scoperto, marcata come esposta, e fa un Banzai, cioè, praticamente, carica così, ci carica, carica gli americani, quindi esce allo scoperto e non tiene la posizione in un impeto di fanatismo, per difendere il sacro suolo giapponese, attacca, e questo fa sì che rimane in sintesi pulita questa zona, che era la zona praticamente del nostro obiettivo, che fortunatamente per noi risulterà pulita alla fine del turno. A questo punto vediamo come dobbiamo aggiustare poi la situazione del fuoco. In genere in questo gioco abbiamo detto che il fuoco viene aperto in automatico, non appena il nemico è stato spottato, quindi prima appena è stato spottato il nemico su questa carta, questo che ora è arrivato qui, tutto ciò che era su questa carta ha aperto il fuoco, abbiamo posizionato questa primary direction of fire. e in genere le nostre unità continueranno a sparare, fin tanto che o non gli si dà l'ordine di fermarsi, quindi di fermare il fuoco o di spostarlo su un altro target, o ci si muove su una carta, quindi un'unità che da qui poi magari si muove qui, non spara più qui se non trova un motivo valido per farlo, o quando non ha più la linea di vista, a causa di un incoming che arriva che blocca la linea di vista, o del fumo che va a bloccarla. Quando poi un nemico entra sulla propria carta, anche in questo caso l'unità termina il fuoco. In termini di gioco nel regolamento viene utilizzata la parola engaged per indicare questa carta che si trova ingaggiata appunto in un combattimento. Nel regolamento c'è proprio scritto che un'unità non terminerà di far fuoco solamente perché non ci sono più nemici su quella carta. Quindi questo cosa significa? Significa che a questo punto il fatto che l'unità da qui sia passata qui, queste unità smettono di sparare e spareranno a questa perché appunto si è spostata qui. Se questa unità si fosse spostata su questa carta, queste avrebbero continuato a sparare. In questo caso avevamo come arma migliore, qui abbiamo delle armi small, avevamo come arma le armi immagino automatiche, quindi queste unità adesso risulta essere soggetta al fuoco delle armi automatiche e proietterà una small arms sulle nostre che vado a indicare qui sulla destra. La situazione sta cominciando a diventare un po' caotica, però in sintesi questi sono i marker che riguardano il giapponese, e tutto il resto sono i marker che riguardano noi giocatori americani. Qui è comunque arrivata una granata su questo target, la granata non viene lanciata sulla carta, ma viene lanciata su un singolo target, qualora una granata non vada a buon segno viene messo un simbolo di granata miss che influenza tutta la carta, ma non è questo il nostro caso. E qui c'è questa assault team che zitto zitto ha preso possesso della zona. Per quanto riguarda il banzai, gli assault team anche vanno a muoversi, questa però è un'arma automatica, quindi non viene a spostarsi. Quindi ci ha detto bene in questo turno. Verifichiamo l'enemy activity check per questo momento. In questo caso eravamo, abbiamo detto, engaged. Vediamo se è cambiato il nostro livello. Il nostro livello può passare da engaged a definitely engaged. se siamo in un livello di engaged, cioè ci sono almeno due carte in cui ci sono unità amiche o nemiche con mark di volume di fuoco, ce ne sono, però addirittura almeno su una carta abbiamo sia amici che nemici, ed eccoci qui. Quindi in realtà il nostro livello risulta essere heavily engaged in questo step. Vediamo la fase successiva, la fase di cattura e ritirata. Non abbiamo catture e ritirate varie da fare. Fase dei veicoli. I veicoli si trovavano nella prima e nella seconda riga che adesso stanno tornando indietro, non li vado più a inquadrare, ma hanno finito il loro sforzo di far sbarcare le unità sulla plancia di gioco. E passiamo alla fase del combattimento. Fase del combattimento, i volumi di fuoco. Allora, questa unità comunque da qui vede questa carta, quindi va ad aprire il fuoco. Qui queste unità si stanno sparando tra di loro, non ci sono degli incoming o degli air strike da togliere e si vanno a valutare i potenziali contatti. L'unico potenziale contatto che dovremmo valutare adesso è questo. Ci troviamo in una situazione di heavily engaged, quindi abbiamo tre carte e vediamo se siamo fortunati. Ah, contact! Sempre l'ultima ci frega. Abbiamo un contatto sulla carta, purtroppo giustamente ce lo fa sudare il gioco. Vediamo cosa c'è di potenziale contatto sulla terza, sulla quarta riga. Eccoci qui. Per schieno abbiamo sempre dieci scelte possibili. La nona, che penso siano spiacevoli sorprese, la nona è il pack 19. Il pack, sbagliato, scheda. Il pack 19, Deezed and Confused. abbiamo una squadra che risulta marcata come esposta che viene messa sulla carta. Quindi una rifle squad che è come la squadra che abbiamo incontrato in precedenza, che vado a prendere, che comunque risulta essere esposta. Quindi si trova qui. Ed è anche spottata, c'è scritto Spotted Yes. Quindi risulta essere visibile. In questo caso la priorità va su questa carta, per quanto riguarda il fuoco. Pertanto abbiamo un'arma small contro un'arma automatica. Quindi c'è uno scontro. Quindi noi siamo soggetti al fuoco small e il nemico è soggetto ad un'arma automatica. Ecco qua. In aggiunta questa unità avrebbe sparato anche di sotto. Ok. Vediamo se la situazione risulta essere pulita. e la situazione risulta essere pulita. Una piccola annotazione. Su questa carta queste unità si stanno sparando. Americani contro giapponesi, giapponesi contro americani. In questo caso, se il fuoco avviene all'interno della carta, non viene messo un segnalino di provenienza di fuoco, come in questo caso, che serve indicare se il fuoco proviene da una carta A verso una carta B. E questo qui è importante perché, nonostante, diciamo, siano tra virgolette circondate queste unità che stanno subendo fuoco da due punti differenti, il fatto che qui non riusciamo a mettere un volume di fuoco fa sì che non abbiamo un crossfire da mettere. Però, ora che sto guardando, effettivamente io stavo inquadrando solamente la terza riga, queste unità che si sono messe dalla seconda riga abbiamo un volume di fuoco. Addirittura l'abbiamo anche da qui, per essere proprio precisi, e da qui. Quindi effettivamente un crossfire risulta essere messo, quindi stanno sparando effettivamente tutto, è diventato il punto più pericoloso di questa campagna di sbarco ormai, questa carta. Vediamo quindi a questo punto, una volta che abbiamo aggiustato i vari segnalini di fuoco, abbiamo valutato i contatti, veniamo alla fase di fuoco vera e propria, quindi mi riavvicino un attimino qui, e eseguiamo un attimino questi conti. Diciamo, magari per velocizzare un attimino il video, li risolvo momentaneamente fuori camera, così do direttamente il risultato finale e riusciamo a chiudere rapidamente questo ottavo turno. Ok, ho fatto un po' di pulizia, ho risolto tutti i vari scontri a fuoco, come era insospettabile, insomma come si poteva immaginare, qui non è successo nulla di che, qui siamo riusciti solo a cambiare lo stato, delle unità insomma pinnate, qualcuno è stata lisciata, qualcuno è stata pinnata, qualcuno è diventato un fireteam, questo membro dello staff non risulta più pinnato, quindi è stato spostato qui, qui invece purtroppo è successo un po' di danno, perché è morto l'HQ della sezione dei mortai, risultano essere stati pinnati i giapponesi, e un'unità risulta essere stata paralizzata, e qui ci sono stati un po' di pin, anche qui un po' di creazioni di fireteam, a seguito di piccole perdite, cosa è successo invece qui, nello scontro che era quello più importante, se vogliamo, il nostro membro dell'assoltime non ha subito perdite, per quanto riguarda la squadra giapponese, anche qui non ha subito perdite, risulta semplicemente essere stata pinnata, quindi poi si andrà ad aggiustare, l'ho fatto immediatamente, questo volume di fuoco passato dal pinnet, quindi terminato questa fase di fuoco, vado a togliere tutti i segnalini a questo punto di esposizione, e di granate, questo poi magari lo vado a sistemare subito dopo, questo simbolino di pin, evitando di fare danni, e si può procedere al turno 9, dove questo obiettivo risulta essere pulito, ora dovremo in tutti i modi riuscire a pulire questo, grazie a tutti,